Five years ago, I remember sitting among you, I look back at that time. Ciao a tutti e benvenuti a Bar Italia, il mio appuntamento settimanale per discutere notizie e curiosità dall'Italia. La notizia della settimana riguarda l'ennesimo politico italiano che non ha superato l'esame di inglese. Vi faccio tre esempi clamorosi, veramente da ridere o da piangere, a seconda dei punti di vista. Il primo, Matteo Renzi, con il suo famoso My mother she cried in her sleep. Poi Alfano, che arrivò in ritardo a un incontro al vertice a Bruxelles. The wind, the wind si dice, wind, wind, non wind. E infine, il più recente è appunto quello che ci dà argomento per la notizia della settimana. L'italiano Raffaele Fitto, nuovo commissario al Parlamento europeo, che ha letto il suo discorso in inglese, tra virgolette, specie di inglese. E attenzione perché alla fine di questo video proviamo a dare i voti a questi tre esempi di italiani in trasferta. Ma per ritornare all'esempio più recente, Raffaele Fitto. Chi è Fitto? È un politico pugliese con una lunga carriera alle spalle. È stato presidente della regione Puglia, ha fatto parte di Forza Italia, è stato ministro con Berlusconi. A un certo punto si è staccato da Forza Italia, in tempi più recenti è passato a Fratelli d'Italia. Oggi è commissario europeo, scelto dalla Meloni e anche dalla Wunderlein. E quindi un profilo solido, se vogliamo, ma a parte questo problemino dell'inglese. Perché, ripeto, quando è arrivato il suo turno ha letto questo discorso con una pronuncia veramente traballante. Sono fioccati in rete battute e commenti. E allora, da cittadino comune potrei anche farmi una risata davanti a questa impreparazione di alcuni nostri politici quando provano a esprimersi in inglese. Da italiano però e da cosmopolita sono perplesso, per non dire imbarazzato. Onestamente mi sento rappresentato male. Si accredita lo stereotipo dell'italiano con l'inglese zoppicante. Si sottovaluta l'importanza di presentarsi in Europa e di fare bella figura. Poi, da insegnante, da persona che ama le lingue, studia le lingue, devo dire, parlare una lingua straniera, attenzione, non è una competenza che si può improvvisare. E' un'abilità, un'abilità complessa come ballare il tango, giocare a tennis, suonare il piano, eccetera. E' qualcosa che richiede tempo, esercizio, costanza. E per questo quando sento fitto o quando rivedo Renzi con il suo She cried in her sleep, rimpiango onestamente i bei monti, i bei draghi. Loro sì che con il loro inglese impeccabile ci facevano fare bella figura e passavano l'esame a pieni voti. E allora, a proposito di voti, diamo i voti a questi tre studenti, Fitto, Renzi e Alfano. Chi ha fatto peggio? Allora, secondo me io metterei al terzo posto Alfano, perché è vero che ha detto Wind, però almeno lui, il discorso poi l'ha fatto in italiano, è stato consapevole dei suoi limiti. Al secondo posto metto Fitto, che decisamente ha fatto una gran brutta figura, ci ha ricordato i nostri limiti, ma almeno la forma del messaggio era corretta. E al primo posto, probabilmente a vita rimarrà Matteo Renzi con il suo famoso My mother, she cried in her sleep. E allora, però, per fortuna le cose stanno cambiando in Italia. Le nostre nuove generazioni ascoltano, sentono l'inglese, lo parlano un po' di più, hanno più occasioni di sentirlo e lo usano probabilmente con meno paura. Quindi speriamo che in futuro queste figuracce dei politici italiani diventino un lontano ricordo. E tu, amico da casa, cosa ne pensi? Secondo te, quanto è importante che un politico a questi livelli conosca l'inglese? Da 1 a 5, dove 1 è per niente importante, 2 un po' importante, 3 abbastanza importante, 4 è importante, 5 è fondamentale? Lasciami la tua risposta nei commenti, sono davvero curioso di sentire cosa ne pensi. Ti ricordo infine che se vuoi ricevere i miei materiali per imparare l'italiano o migliorare il tuo italiano, gli inviti ai miei incontri di conversazione su Zoom, puoi mandarmi una mail a questo indirizzo, news at italianwithleo.com o seguire il link nei commenti. Ti ringrazio anche per oggi per avermi seguito in questo episodio di Bar Italia e ti aspetto tra una settimana con un'altra notizia dall'Italia. Ciao!